Ciao amici! Allora, questo video breve è soltanto per dirvi che finalmente è uscito Settembre. Che cos'è Settembre? Il mio nuovo singolo inedito. Vi ricordate qualche mese fa la campagna di crowdfunding su MusicRacer? Quando vi ho parlato qui su YouTube che stavo appunto per iniziare un percorso nuovo nella mia carriera, umile carriera musicale? Innanzitutto voglio ringraziare tutte le persone che hanno sostenuto la campagna di raccoltafondi su MusicRacer che mi hanno consentito finalmente di produrre e di lanciare questo nuovo singolo. Settembre è uscito lunedì 16 settembre appunto, oggi invece è venerdì 20 settembre, giorno in cui sto registrando questo video ed è uscito finalmente anche in radio, quindi praticamente lo abbiamo lanciato proprio ufficialmente oggi. Quindi scusatemi se in questi due mesi sono stato un po' assente qui su YouTube e in generale. Ora cosa vi chiedo? Vi chiedo di andarlo ad ascoltare. Se volete potete ascoltarlo subito adesso cliccando il link che c'è nella descrizione. Il link nella descrizione vi porterà su una pagina dove potete scegliere tutti gli store digitali su cui appunto ascoltare o anche scaricare se volete il brano. Nei prossimi giorni uscirà anche il videoclip ufficiale su Vevo, quindi vi invito ad iscrivervi anche al mio canale Vevo ufficiale. Trovate sempre il link nella descrizione, così sarete subito avvisati quando uscirà il video. Ragazzi cosa dirvi? Adesso ho bisogno del vostro supporto. Dovete andare ad ascoltare settembre, subito, adesso. Link in descrizione e fatemi sapere anche sotto questo video nei commenti se vi è piaciuto. Ci vediamo prossimamente perché poi tra poco, a breve, ripartiranno anche qui i video su YouTube, sul mio canale, quindi restate sempre aggiornati. Mi raccomando settembre ragazzi, link in descrizione, settembre. Ciao!